buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde edizione speciale per la novità sui percorsi abilitanti 2024 la novità sta nel fatto che il ministro bernini dell'università della ricerca ha presentato il decreto ministeriale per lo sblocco dei percorsi abilitanti era molto attesa questa mossa del ministro dell'università vediamo di che cosa si tratta domanda numero uno se attraverso il percorso abilitante 30 cfu riservata a docenti con tre annualità di servizio nelle scuole statali o paritari negli ultimi cinque di cui almeno uno svolto nella medesima classe di concorso richiesta mia abilitarsi nella classe di concorso a 01 mi troverei abilitato sia nell'ex a 01 sia nella ex a 0 17 allora sì certamente i docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi concorso che sono confluite senza il decreto del ministro dell'università e dell'istruzione del merito stiamo parlando del decreto 255 del 22 dicembre 2023 nelle classi di concorso a 01 a 12 a 22 a 30 a 48 ea 70 a 71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso per cui chi si è abilitato appunto come nella domanda si abilita nella a 01 sarà abilitato sia per arte immagine della scuola secondaria di primo grado sia per disegno e storia dell'arte a 0 17 nella scuola secondaria di secondo grado domanda numero 2 quale è l'aspirante docente che può partecipare può accedere al percorso abilitante di 36 cfu cfa hanno titolo di ammissione a partecipare al percorso universitario accademico abilitante di formazione iniziale 36 cfu cfa coloro che sono vincitori del concorso ordinario pnr e hanno conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022 ed hanno partecipato al concorso con tali titoli di ammissione per cui potranno adesso completare con 36 cfu il percorso abilitante lo potranno fare durante l'anno di di ruolo l'anno di prova di ruolo che verrà loro assegnato dal ufficio scolastico regionale domanda numero 3 per ogni cfu di tirocinio da acquisire quanto tempo bisogna dedicare in presenza allora per l'acquisizione di ogni cfu o cfa di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi classe pari a 12 ore per cui ogni cfu significano 12 ore di tempo in presenza da dedicare al tirocinio diretto o anche indiretto da fare diciamo nelle scuole speriamo che queste risposte siano di utilità ai nostri telespettatori e che siano motivo di riflessione rispetto a percorsi abilitanti che ricordiamo per lo più sono percorsi che ha già iniziati per una parte cioè per coloro che hanno già un'abilitazione di insegnamento hanno già iniziato a svolgere le lezioni con per 30 cfu sono di solito lezioni a distanza quest'altra tornata invece riguarda principalmente tutti coloro che stanno partecipando ai concorsi del pnr grazie dell'attenzione a presto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti